questa settimana in tic tac parliamo di dirama il festival dedicato all'ambiente e la sostenibilità ambientale tracciamo un bilancio di questa nuova edizione e poi parliamo invece di teatro perché siamo andati all'inaugurazione della rassegna terre del vescovado teatro festival per lo spettacolo overload della compagnia sotterraneo vediamo tra l'altro scusate non so se sapete che la soglia di attenzione di un pesce rosso è di 10 secondi ma studi recenti hanno dimostrato che le nuove tecnologie hanno abbassato la soglia di attenzione umana a 9 secondi da un punto di vista tematico overload parla della rivoluzione digitale o meglio di come la rivoluzione digitale sta modificando i processi mentali della nostra specie in particolare rispetto all'attenzione cioè la nostra capacità di attenzione profonda di orientamento in un mare infinito di informazioni però di uno spettacolo del 2017 premio ubu come miglior spettacolo del 2018 quindi qualche anno è passato ma in realtà la rivoluzione digitale e in generale le metamorfosi legate alla realtà aumentata e alle nuove tecnologie sono una cosa che ci accompagnerà per decenni se non oltre quindi i temi rimangono profondamente attuali anzi dal punto di vista dell'evoluzione dei media la complessità e la problematicità di come noi ci rapportiamo a questi strumenti e semmai più più preoccupante più complessa richiede più studio che mai sono david foster wallas grazie grazie anche se probabilmente credo che la maggior parte di voi non mi abbia neanche mai sentito nominare il centro di overload è uno scrittore americano david foster wallas che fa un discorso che ci racconta una sua giornata ma in realtà nel corso dello spettacolo gli altri performer offrono dei contenuti nascosti che il pubblico può attivare quindi in qualche modo si chiede al pubblico di giocare di essere complici di un meccanismo che suscita un pensiero critico rispetto alla nostra capacità di rimanere attenti o distrarci per sviluppare appunto una riflessione su questi temi il tutto vuole essere ironico e feroce al tempo stesso quel centro di overload c'è david foster wallas perché uno scrittore che amiamo da sempre ma anche perché uno scrittore che ha riflettuto moltissimo sulla cultura pop sull'immaginario collettivo sui media sul ruolo che i media hanno nell'informare l'immaginario delle persone la loro percezione della realtà quindi era come dire la giusta personalità da mettere al centro del nostro meccanismo lui stesso nel suo capolavoro che è infinite gest ha creato un meccanismo di link per cui un libro che è già di oltre mille pagine ha tantissime noti a piedi pagina che sono una propagine del libro stesso per cui un libro in cui ci si perde come oggi ci si perde in rete per riflettere su questo smarrimento sulla sua ricchezza e le sue problematicità il terre del vescovado teatro festival è un festival itinerante che si svolge in sette paesi delle terre del vescovado che sono seriate scansorosciate pedrengo bolgare chiuduno costa di mezzate albano sant'alessandro sono i paesi che quest'anno hanno aderito che ospiteranno sette spettacoli molto esclusivi direi rispetto a quella che la proposta culturale di quest'estate che è cappeggiata da bergamo brescia capitale per la cultura abbiamo cercato di portare questa questa saggezza del teatro questa surrealtà del teatro questa posizione del teatro anche al con un'immagine un'immagine che l'immagine simbolo di quest'anno fatta dalla dall'illustratrice giulia cabrini in cui questo carro portatore di energia pulita e di un albero che ha un cuore pulsante riesce ad arrivare nelle piazze dei paesi proponendo appunto spettacoli per la comunità il prossimo appuntamento è ad albano sant'alessandro in un agriturismo all'agriturismo sant'alessandro con claudio lauretta che propone il suo spettacolo cabarettistico molto divertente i mitamorfosi poi saremo a bolgare nella cornice del cortile del palazzo municipale con pem rita pelusio e altre tante brave attrici che proporranno uno spettacolo su una storia molto bella giovinette le ragazze che sfidarono il duce